Sono migliorate le condizioni di salute di Rosa. La ragazzina di Calcinelli è ricoverata venerdì scorso all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, inizialmente con una sospetta meningite da meningococco, poi smentita dall'esito delle analisi effettuate da un laboratorio specializzato a Firenze. L'altro ieri il padre della dodicenne Giancarlo Iacchini, nonostante, come scrive lui stesso, non avrebbe mai voluto utilizzare social network per cose personali e dolorose, ha deciso di pubblicare un post nel suo profilo Facebook. L'intento è stato quello di chiarire le condizioni di salute della figlia e di ringraziare sia i medici che la stanno curando, sia tutti coloro che stanno dimostrando affetto e vicinanza alla giovane e alla famiglia. Rosa è ricoverata per una meningoencefalite, infiammazione del cervello non contagiosa, specificato Iacchini, quindi nessun allarme pubblico, ma ovviamente per lei molto pericolosa, provocata da una complicanza della sinusite. È stata subito avviata la cura antibiotica che si spera faccia effetto al più presto. Le sue condizioni sono stabili, in via di leggero miglioramento. È ancora immobilizzata nel letto, spesso con la febbre, ma è sempre stata cosciente. Saluta tutti, amichetti, compagni di scuola e di calcetto, insegnanti e le tantissime persone che le vogliono bene. E già, preannuncia feste grandiose quando guarirà. L'enorme effetto e solidarietà che sentiamo intorno a lei e alla famiglia attenua la nostra angoscia e ci spinge ad essere forti e fiduciosi, insieme al fantastico comportamento di Rosa che affronta tutte queste sofferenze con una calma incredibile e si conferma davvero una bambina straordinaria. Un grazie di cuore a tutti, ha concluso, per l'amore che le dimostrate e ci dimostrate, in particolare ai medici che si stanno adoperando per guarirla. Forza piccola, tieni duro. Forza piccola, tieni duro.